La cagnolina Gabriella, compagna fedele di Francesca Ferragni e Ricchi Nicoletti, trascorre sempre più tempo, con il piccolo Edoardo, diventando il suo compagno di giochi preferito. Quando sono a casa, i tre formano un trio inseparabile, con Gabriella che dimostra la sua intelligenza e affetto. Ma non è solo in casa che Gabriella si distingue. Quando esce, approfitta per correre nei prati e ammirare la natura circostante. La sua natura curiosa e giocosa la rende un esempio di cane addestrato in modo eccellente. La famiglia Ferragni-Nicoletti ha investito tempo e risorse nell'addestramento di Gabriella, e i risultati sono evidenti. La cagnolina incarna l'armonia tra uomo e animale, dimostrando che con amore, pazienza e impegno è possibile creare un legame profondo e duraturo con il proprio animale domestico. Gabriella è molto più di un semplice animale domestico. È un membro stimato e amato della famiglia. Giocate insieme!